Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali. Ci saranno questi due micetti deliziosi, Ais e Pallino con questi occhioni gialli. Ciao, sono Honey, ho 5 Messi, sono una femminuccia molto coccolosa e sono la bimba di Aida Jespica. Se non hai un cane non c'è necessariamente qualcosa che non va in te, ma di sicuro c'è qualcosa che non va nella tua vita. Questa gioia, questo amore ci ripaga del tanto impegno che noi volontari mettiamo nel cercare di regalare una nuova vita agli animali sfortunati. E direi che sono immagini che parlano da sole.